Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti nel nono episodio della Ministeria di Dismiss 4 su Strangerville Il nostro Peter ha appena attaccato l'asciugatrice, ho fatto il bucato, mi sto occupando della casa E si ragazzi, in realtà la cosa più importante è questa Le piante stanno prendendo possesso di casa mia Ho appena notato che c'è una pianta strana nel mio lavandino Ora vado a fare così, non vorrei però prendere delle spore Botanofobia per le piante dell'impianto Che sta succedendo qui? Le piante stanno sfuggendo di controllo Esatto, esatto, lo vedo che stanno sfuggendo dal controllo Intanto lui resta atteso per un bel po' Probabilmente E la cosa non mi piace per niente Cosa ho pensato di fare però ragazzi? Ho preso il portatile, perché vi ricordo che ora ce lo possiamo portare a giro Ah, perché portatile? E pensavo di tornare al laboratorio Questo perché dobbiamo fare un sacco di cose interessanti in questo episodio Intanto direi che possiamo raggiungere il laboratorio Metterci la tuta, andare a fare un po' di robette belle E poi vi spiegherò cosa in mente di fare Siamo al laboratorio ragazzi Per l'ennesima volta In questo laboratorio cosa dobbiamo fare? Intanto abbiamo distrutto tutti i nostri pc Quindi per farlo cosa si può fare? Beh, a questo punto mi servirebbe una scrivania utile Notare che anche qua le piante stanno prendendo il possesso del tutto Io posso mettere il portatile qua? No ragazzi Ok, devo capire Intanto andiamo da basso Assolutamente sì Eseguo una scansione qui Per farlo No, probabilmente non mi partirà l'interazione Dal momento che prima Devo ovviamente usare sempre la chiave elettronica Cosa che facciamo? Scendiamo in basso Utilizziamo però l'analizzatore chimico In qualche modo Se riesco Osserva Qua intanto c'è un altro Laboratorio Perché questo ragazzi? Intanto possiamo fare una scansione qui Voglio vedere Intanto c'è Alice E lo so, lo so Siamo fidanzati Poi parleremo anche con Alice Ok Facciamo qua la scansione Vediamo un po' se mi trova Uh Metti nell'inventario sì Metti nell'inventario Anche qua è pieno di vitici strani di pianta Quindi prendo tutto Ok Questi però io li dovrei analizzare ragazzi Di una certa Ma come faccio dal momento che Mi dice di poterli analizzare Nella nostra postazione del laboratorio Che è questa ragazzi? Quindi non so bene come comportarmi Perché se vado a fare così Non posso metterli Ne ho sedici in realtà Analizzatore chimico al laboratorio segreto E dove sta l'analizzatore chimico? Non lo vedo da nessuna parte Intanto qua però Abbiamo la possibilità di avere un'altra scrivania Una scrivania libera? No E allora vieni qui Grazie Ok abbiamo le bollette da pagare come al solito Ok mettiti pure la tuta Grazie Andiamo qui Ok A questo punto raggiungiamo ovviamente La parte sottostante del laboratorio Qua non abbiamo degli analizzatori chimici No No Osserva questo io l'ho distrutto Non posso ripararlo Perché mi chiede Nivello 9 di manualità E intanto fra un po' dovrò andare a lavoro Ok Ma io a questo punto ne approfitto per usare la chiave elettronica E arrivare credo al posto più importante Facendo di fatto Che ti aiutino a fermare la fonte dell'infezione Sconfiggi la fonte dell'infezione Ragazzi Ecco qua Siamo arrivati alla fine ragazzi Questo è il mistero di StrangerVille La madre probabilmente Tenta di lottare Provoca Tenta di comunicare Ma non è arrivato il momento di farlo ragazzi Non credo Anche se però sospetto che aver alla fine liberato la madre Ecco ma abbia sbloccato tante cose Tipo Crea un vaccino sperimentale Ok Vediamo un po' se riesco a farlo ragazzi Eh questo episodio sapevo che sarebbe stato tosto E poi pian piano vedrai Che sta facendo No Non andare a lavoro No Non mi interessa del lavoro No in realtà si lo mandiamo Aspetta Aspettate Faccio un vaccino Poi vado a lavoro Così almeno mi crea la Promozione Tutto trema ragazzi Ci siamo Siamo alle battute finali Ragazzi Tuoni Lampi E campi elettromagnetici Abbiamo risvegliato la madre ragazzi Siamo arrivati All'ultimo step Comunque Ok Guardate un po' tutte le piante Stanno crescendo Stanno prendendo possesso di tutto Ma io prima devo fare il vaccino Poi lo faccio andare a lavoro E poi torniamo qua ragazzi Con calma Tranquilli tranquilli Intanto Peter è riuscito a realizzare un vaccino sperimentale Testano i suoi sim posseduti Lo faremo Ma prima di questo ragazzi Andiamo a lavoro Andiamo assolutamente a lavoro Ci sarà il caricamento Quindi torneremo a casa Facciamo le cose con calma ragazzi Perché siamo davvero quasi alla fine Ma c'è ancora da fare un bel po' di roba Ferma l'infezione Hai scoperto la fonte dell'infezione Che flagella Strangerville Un'enorme pianta La madre Sepolta alla base del laboratorio L'unico modo per riportare la cittadina alla normalità E sconfiggere l'immonda creatura Trova una cura per l'infezione E forma una squadra per distruggere la pianta madre E come se la trovo E come se la trovo Intanto però vai pure al lavoro Grazie Lavorami sodo Così almeno ti prendi la promozione Ormai ragazzi tutto è Piano di spore Strangerville sta cambiando Credo proprio che la pianta Stia andando anche a rinfestare casa mia No per fortuna no Però è bella bella tosta Ci sta Intanto però Otteniamo una nuova promozione in questo episodio GG per noi Vediamo un po' Sentite il nostro temporale ragazzi Aerei che vanno a sbattere Quasi Per quanto riguarda Tutta la nostra Tempesta Vediamo un po' Cosa ci segna Tempo strano Tempo strano Va bene va bene Lui è teso Ce l'abbiamo fatta Maresciallo 1130 GG Premio occhio di falco E nuovi abiti Ok Facciamo le cose con calma Come al solito Quindi Che si fa di bello Torniamo intanto a casa nostra E a trovarla Eccola qua Perfetto Andiamo in basso Mettiamo la nuova medaglietta Che abbiamo tranquillamente Nel nostro inventario Eccolo qua Comune E continuiamo a fare Le belle robe Qua invece abbiamo Vaccino sperimentare Testa il vaccino sperimentare Lo dobbiamo fare con Semicorrotti Per farlo però prima ragazzi Sapete che c'è Dobbiamo Uh Lo facciamo ora? Sì è come Testa il vaccino Sperimentare Vediamo un po' Ce l'ha fatta Ok Che succede? Ok Sembra causare Una specie di reazione Ma non ha risolto Di tutto l'infezione Continua a testarlo Su altri sim posseduti Per vedere come reagiscono Non ho più il vaccino Ne devo fare più di uno Ok ragazzi Questo è Tosto Davvero Molto molto tosto Dire che faccio Uno screen Di questi due E poi Torniamo al laboratorio A vedere Cosa ha da dirci la madre Ok ragazzi Mi sono occupato dei bisogni Alice è venuta a farci visita A questo punto Altre scelte Indagini di Strangerville Parla di Strangerville Va bene Qua però Come vedete Ho un'altra interazione Recluta per lottare Contro la pianta madre Richiede vaccinazione Recente di Alice Somministra il vaccino Per l'infezione Prima di cercare Di reclutare alleati Per lottare contro la madre Ok Ho saputo che nel laboratorio C'era una specie di mostro E lui la causa Di tutto questo È vero Io però purtroppo Prima di reclutarli O meglio Ho sbagliato prima Perché Ora vi spiego Intanto Il numero di simi infetti È aumentato a dismisura Sto notando Perché ormai Siamo alle battute finali Dobbiamo tornare al laboratorio Tornare al laboratorio E fare le cose belle Ma prima ragazzi Visto che al laboratorio Potrei anche morire Vorrei fare una cosa importante Ovvero Altre scelte Altre scelte dove sta Proponi le nozze Quindi voglio Che prima di andare Ad affrontare la madre Io possa Chiedere a Alice Di sposarmi E nel caso Riusciremo a risolvere Il mistero Ci sposeremo Questa è una cosa carina Da cui ho pensato È la nostra promessa Sposa Altre cose Amichevole Altre scelte Chiedi di convivere È arrivato il momento Ragazzi Assolutamente sì Ok Vediamo di portare Alice Dalla nostra parte Perché è interessante Questo E quindi poi Ci prepariamo a fare Tutte le belle robe Vieni pure Alice Perfetto Possiamo tornare a casa Ora devo proprio andare E vivi qua Cara la mia Alice Ora devo guardare un po' Non ha un lavoro Va bene Buona sapersi Ha qualche abilità Questa sim Chitarra 3 Pianoforte Pianoforte 6 Violino 6 Un'ottima musicista La nostra Alice Buona sapersi Buona sapersi Ora però Cara la mia Alice Ti devo lasciare Perché a questo punto Anzi Prima vado a letto Devo andare a fare Tanti vaccini Devo assolutamente Fare tanti vaccini Per poi cercare 3 sim Da portarmi Di fronte Alla pianta madre E guardate ragazzi Non sarà difficile Strapieno di sim Notare anche i colori Di tutto Notare anche il laboratorio Guardate un po' La tempesta Tutte le spore Gli aerei Che cercano di fare Le cose belle Senza riuscirci Guardate un po' E il colore del quartiere Davvero molto carina Come dinamica Intanto però Caro il mio Peter Riusciresti a dormire Grazie Magari anche te Alice Così magari Passa in fretta il tempo Ti ringrazio Oh perfetto Perfetto A questo punto Abbiamo altri vitici Ragazzi Altri vitici strani Usa questo Fai anche una doccia veloce Perché poi ti voglio Bello carico Peter Perché dobbiamo andare Al laboratorio A fare le belle cose Quindi forza Vai pure in bagno Alice Sgombera dai vitici Grazie Ok Perfetto Stiamo andando avanti Ok lui ha solo fame Ho visto altri Ho visto altri Nel water Ragazzi la cosa sta Davvero sfuggendo di mano Poi invece non c'è nulla No E allora vado a mangiare qualcosa Pasto veloce Con cereali Forza Caro il mio Peter Lo so che sei bello energico Per il futuro matrimonio Che avverrà Non appena sconfiggeremo La pianta madre Spero Abbiamo 24 minuti Per Grazie Pagliamo le bollette Molto bene Pagale Grazie Ok Lui come sta Sta bene ragazzi È arrivato il momento Di tornare al laboratorio Fare tutte le prove del caso Assolutamente sì Perché ci servirà Quindi Andiamo al laboratorio Facciamo tutti i vaccini Ne faremo davvero tanti E poi Cercheremo degli alleati Per andare a sconfiggere La pianta madre Ci siamo ragazzi Torniamo così al laboratorio Laboratorio che ormai È infestato Davvero tanto Usiamo la chiave Forza Non dovrei neanche Avere la Perfetto Posso anche stare qua Senza mettermi la tuta Cravaccino Forza Forza Peter Dobbiamo farne Almeno 4 o 5 Non so quante piante Mi rubi È ammasso di spore Prendi ferie pagate Oggi Non si va al lavoro Ragazzi Me ne richiede Tante Quante spore Servono per fare Un vaccino In tutto ciò Guardate come si muove tutto Perché la madre Ormai si è risvegliata Vediamo un po' Vaccino sperimentale Deve essere testato Tre volte Prima che tu possa Sintetizzare Il vaccino Per l'infezione Ok Quindi devo Prima sperimentarlo Tre volte E poi devo Tornare a fare Il vaccino Per l'infezione Ok E poi devo Reclutare la gente C'è un po' Da fare 2 Facciamo il terzo Richiede 5 ammassi Si dispore Un frutto Bizzarro Ecco perché Ok Allora Semplicemente Vado da queste parti Eseguo una scansione Dovrei trovare comunque Quello che mi serve Ecco Intanto qua c'è anche un cartello Che ci dice Come mettere la tuta Perfetto Metti nell'inventario Metti nell'inventario Metti nell'inventario Dovremmo avere Tranquillamente Il tutto Per fare quello che dobbiamo E' stato Molto molto furbo Prendere Tanti frutti bizzarri Perché come vedete Ci servivano GG Facciamo l'ultimo vaccino E poi andiamo in giro Stavolta Magari andiamo Non so Nei pressi del bar O da qualche parte A reclutare i sim E soprattutto vaccinarli Dobbiamo capire Come funziona il tutto Lui però Cosa mi sta massimizzando La logica La logica Benvenga Abbiamo tre vaccini ragazzi Dobbiamo lasciare Il laboratorio stavolta E andare di nuovo In città Perché ora E' arrivato il momento Di reclutare la gente Quella bella Per farlo Andiamo vicino alla Libreria Perché a questo punto Avrete notato Anche voi ragazzi Che i sim Strani E quindi quelli Che hanno assorbito Le spore della madre Ormai si sono moltiplicati Li troviamo davvero Tanto in città Quindi non sarà Troppo difficile Trovarli Quindi ragazzi Non sarà troppo difficile Trovarli Intanto però Raggiungiamo Il centro della città Vediamo un po' Eccoci Eccoci Ok Simstrani a rapporto Le è l'unica Che è normale Perfetto Ma se sto qua Un pochino Probabilmente Ne troverò Ne troverò Arriveranno Arriveranno a frotte Ragazzi In città Fidatevi Ormai È stra pieno Di gente strana Quindi devo solo Aspettare Già vicino a casa mia Era stra pieno Di gente Quindi Volendo poter tornare Anche a casa Intanto lui si sta Grigliando delle robe Perché ha fame Fai bene Fai bene Bravo Arrivano in federali Victor Fang No non è vero Non è un federale Sono molto molto furbo Ok Eccolo Perfetto Prima vittima Ragazzi Testa il vaccino Sperimentare Lo sapevo che sarebbero Arrivati Forza Forza Peter Vediamo un po' Ok Il vaccino è sembrato che sia una specie di reazione Testato Due Ok Il sim reagisce malissimo Si addormenta Va bene Qui siamo a quota 2 di 3 ragazzi Sì Se anche non mi disegna Va bene Mi serve un altro sim strano Forza Spuntate ragazzi Che si fanno le cose belle Eccoli qua ragazzi Manca a dirlo Ciao Testa il vaccino Sperimentale Sulla nostra Noemi Mariani Membro dell'esercito Ragazzi Pensate un po' Sono ormai corrotti tutti Dappertutto Eccolo qua Ok Eureka Il vaccino sembra isolare l'infezione Torno al laboratorio segreto Per creare il vaccino per l'infezione Con l'analizzatore chimico Lo faremo Quindi a questo punto Va alla ricerca di un altro sim posseduto Per testare il vaccino No Altre scelte Non mi interessa Devo provare a reclutarlo Per quanto riguarda la madre Quindi devo andare qua Parla di Strangerville Beh posso testarlo anche su di lui Non ne ho più ragazzi Gli ho finiti tutti i vaccini Sì Mi dice solo di tornare al laboratorio Ok Per farlo prima vado un attimo a mangiare Qua ho grigliato qualcosa Quindi scusatemi Eh già che ci sono Riprendi hot dog di tofu Sì Perché no Grazie Così almeno vado al laboratorio Bello bello carico Se riesco Bravo così Mangia Prendi una porzione Bravo Questa me la metto anche in saccoccia Posso? No purtroppo no Ok Mangia pure caro il mio Peter Perché dobbiamo andare a fare le belle robe Ok Ok Testati i vaccini È arrivato il momento di tornare al laboratorio Ci siamo ragazzi Ci siamo Ok Usa la chiave elettronica Quello che però non ho fatto È hackerare il sistema in cerca di prove Ecco Quello mi dispiace Intanto notare quanto stia andando tutto a scatafascio Converti il vaccino sperimentare Converto un vaccino sperimentare in utilizzato Nel inventario in un vaccino per l'infezione Perfetto Mentre quello per l'infezione cosa richiede? Uguale Sempre 5 ammassi Perfetto Che non ho Che non ho Esatto Quindi In realtà devo venire qua e fare una scansione Peter ha guadagnato 768 nel suo giorno di ferie Scusate ragazzi ma A questo punto preferisco andare un pochino avanti Con il nostro mistero Anche perché ormai abbiamo visto di cosa si tratta Quindi vado a fare così Ok ok Perfetto E vado a fare un vaccino per l'infezione Eccolo qua Ci siamo Perfetto Ok Ok A questo punto vado a fare un bello screen Che direi che ci sta tutto Quindi vado a fare così Eccolo Ci E poi soprattutto Vorrei anche Andare A Casetta di madre Che non posso perché devo usare la chiave Quindi magari lo facciamo dopo Ragazzi a questo punto abbiamo tre vaccini per l'infezione L'ho mandato in bagno Poverino perché non ce la faceva più E intanto i fulmini arrivano E non è proprio bello Devo indossare un attimo la tuta Perché a questo punto vorrei Se riesco Andare da queste parti Sì Notare che non ci sono più spore Ragazzi non ci sono più le spore Ok Sono sparite Andiamo all'ultimo piano Perfetto Andiamo qua Usa la chiave Perfetto Ok Benissimo E a questo punto Ragazzi Beh vado a fare un bello screen Ora Quello che mi resta da fare È tornarmene a casa Assolutamente Qua poi ci sono altre tre porte Ragazzi Ecco perché vi dico che dopo Avere sconfitto Credo la madre Potremo fare altre scoperte Perché ci sono altre porte Da fare Quindi tranquilli La miniserie non è ancora finita C'è tanto da fare Intanto però Aspettiamo che lui Se ne torni a casa Mi occupo dei suoi bisogni Che sono davvero tantissimi ragazzi E andiamo a Vaccinare tre sim Finalmente possiamo fare tutto Quindi direi che possiamo andare In tutto ciò Però io posso passare al controllo Grazie Eccoci ragazzi Eccoci Ok Facciamo un bel Bagnetto Per prima cosa Vado anche a mangiare Qualcosa Da qua Segui la ricetta Per animali Non mi interessa Altre scelte Pasto veloce Con i cracker al formaggio E poi per divertirmi E dormire Direi che c'è un metodo Infallibile In tutto ciò Come sta il nostro bagno Ok Abbiamo le piantine Nel water Molto bello Tutto ciò Questo lo togliamo Vai pure a mangiare Grazie Anche nella vasca Ah ragazzi La cosa sta davvero Sfuggendo di mano Ragazzi Direi che ci siamo Ho appena Rimesso a posto Un po' I suoi bisogni Ok Sto mandando Il nostro Peter A prendere Gli ultimi frutti E soprattutto Poi lo manderò A letto Non sarà difficile Trovare tre sim Da portare Dalla nostra parte Come vedete Ce ne sono davvero Tanti Tutti corrotti Ce ne sono davvero Molti Vicino a casa nostra Quindi ragazzi Nel prossimo episodio Andiamo a reclutare Il tutto E vediamo Come fare Tutta la parte Relativa Alla madre Ragazzi Vedrò un po' Cosa succede Detto ciò però Ragazzi vi dico Che per questo episodio È tutto Io spero che vi sia piaciuto E se condividete Mettere un mi piace Iscrivetevi al canale Mi saprei sotto Nei commenti Che ne pensate Trovate come sempre Quel pulsante Per iscrivervi Altri video E vi do l'appuntamento Alla prossima Vi dico Ciao a tutti Ciao a tutti